spianca che questo attaco è bronzo che solleva il braccio e che vi auguro il benvenuto a Capri questo attaco è chiamato il siderio guarda che bella quella rossa si non poi posso corrispondere per il calumbo è forza qui a rinvento le forze di Capri per augurare per tutte le politiche di loro cittura il monte che ci dovrà, signori, il monte di Tiberio 335 metri sul livello del mare ed è l'unico punto di interesse arceologico dell'isola l'unico tempo che ci viene sull'isola viene soprattutto per ammirare le bellezze come i panaglioni, la crosta il monte di Tiberio, sulla sua vita ci sono i ruderi e la villa dove l'imperatore visse dal 26 al 37 d.C. è l'unico punto di interesse arceologico dell'isola di Capri per arrivare in cima del monte di Tiberio si cammina a piedi dalla famosa piastetta di Capri signori a sinistra nella boschia a sinistra c'è il Vesuvio il Vesuvio a sinistra e di fronte questa è tutta la penisola sorrentina dalla punta estrema a Capri ci sono solo 5 km di distanza Capri un tempo era attaccata alla terra a Berma Allora signori guardate questo strapiombo a picco sul mare è il famoso salto di Tiberio si racconta che dall'alto della nuve l'imperatore buttasse in mare gli schiavi e le donne 335 metri sul livello del mare è stato ribatteggiato il salto della sua ocena sulla sommità e dentro ci sono le lutei della villa dove l'imperatore si merita all'epoca la villa faceva più di 7.000 m2 occupava mi ripeto come i tre piani e oggi rimangono solo le fondamenta della villa le statue, i mosaichi e tutto ciò se ci va bene li vediamo ci sono tutto l'anno? esatto, traslato al sole arriva anche là i baleni aspetta eh ma l'acqua qua è bella bella guarda la grotta mia guarda la grotta mia guardate, attenzio tra qualsiasi e che si vedo sotto il livello del mare si vedono i coraggi con quello che non è che la parte ferma così infestite pulito la ventola da qui anche di sotto è un gran ruolo ma stiamo andando ma stiamo andando ma stiamo andando il contrario certo, andiamo così si la stessa non è nascita ma è nascita ma è nascita che si è andando a ora perché è il primo al contrario? perché è dritto e picchia sopra il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info 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 ci sei ancora? si ora che stiamo entrando aiuto eccoci qua signori guardate a destra e a sinistra sotto vedete sotto il pelo sotto la strada guarda vedi la dove c'è rosso? sono i coralli mia guarda sopra ma sono le belle? che cosa c'è? gli affari rossi devono essere coralli ah ecco coralli non c'è niente qua sotto ma che roba ragazzi ora stiamo scendo eh? perché stiamo scendo perché è una visita poi adesso andiamo da un'altra parte che è niente guarda qui non c'è uomo allora signori ora accoltatevi bene la prossima in realtà sono due grusse sovrapposte la grusse inferiore è detta una grusse bianca per il colore vedete la roccia calcarea bianca l'antiginosa di Capri via la grusse superiore è detta una grusse meravigliosa perché ci sono le sarampite e le sarampiti per cui raccontate quando ci si ammina nella grusse in alto a destra c'è una sarampite una roccia che va dal basso verso l'alto che è vista da questa prospettiva sembra una madonnina dovete guardare nella grutta che ci avete di fronte signori guardate dove c'è la stratificazione vedete la vigniera all'interno all'interno in un angolo a destra c'è la sarampite che assomiglia la madonna eccola qua la grutta meravigliosa e in questo è anche possibile l'accesso di amare vedete che da quest'ora ci sono tante barche con i turisti ma ci sono anche barche con gli individuali perché chi può fitta la barca per fare un tuffo all'alto dell'isola e soprattutto ne approfitta per ammirare la costa che è la cosa più bella di Capri in media dove passiamo no no in media dove passiamo con la barca siamo sui 15-20 metri di profondità in alcuni punti sotto costa siamo sui 5 metri state notando che non ci sono spiagge il cambio non è un'isola per l'abbandeazione è un'isola di montagna qui i primi turisti venivano a svernare ci si passava l'inverno poi poi la frizione moderna è diventata un'isola delle vacanze la maggioranza degli alberghi è una piscina altrimenti si preso parche e le uniche spiagge sono quella di Marina Grande il lato nord dove siamo partiti e quella di Marina Piccola è una piscina è una piscina è una piscina è una piscina il marinaio che vi indica vedete c'è un buco è un arco naturale così come la madonna tutto ciò che vedete lungo la costa è naturale è stato scolpito durante i secoli dall'azione incessante del vento della pioggia e del mare l'arco naturale lo si raggiunge a piedi dal centro di Capri che trova pedonale con un'ora tutta in salita e su in cima c'è un bel venere quindi immaginate dall'alto c'è questa visione sul mare ora sulla vostra destra su questo promontorio lo vedete? c'è una villa rossa questa è la villa del famoso giornalista scrittore Cuscio Malaparte autore di tanti libri Caput La pelle il più famoso da cui è stato tratto anche un film che raccontava le produtture della seconda guerra mondiale dei quartieri poveri di Napoli questa villa è stata costruita a cavallo degli anni 1939-40 e Malaparte riuscì a costruire in questa zona perché all'epoca c'era una grande amicizia con Gian Galeazzo Eciano che era il genero di Bussolini uno degli abituati di Capri all'epoca ministro degli esteri fu lui a rilasciare il permesso per la costruzione della villa che oggi ospita una fondazione culturale quindi non è possibile per chi che sia accedervi dall'esterno se vi girate vedete c'è una rampa di scale quindi se accede via mare via terra adesso signori preparatevi perché c'è la visione più bella di faraglioni noi adesso attraverseremo il faraglioni dentro e lì c'è il famoso casco dell'amore quindi preparatevi per il suo impasto e l'intradizione e quando ci basta e quando ci facciamo questo che ne facciamo questo che ne facciamo questo e quando facciamo il faraglioni dentro perché c'è la cosa da più basso è la più bella è questa è la più bella è questa è la più bella è la più bella è la più bella Ci passiamo un po' più pronto. non c'è il mio amore non c'è il mio amore quando passare, quando fanno domani, niente non puoi dire niente, tu niente faccia niente, non ci chiedono a scoparsi qui fa mia la città salire la città il paese Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti